Il consigliere Francesco Brizio avrà le deleghe al lavoro, la formazione professionale, settori in cui ci saranno dei cambiamenti sicuramente anche per quanto riguarda le competenze. Sì, dubbiamente sono settori in questo momento che vivono in una fase di transizione, si tratta di comprendere con la regione Piemonte quali sono poi le prospettive rispetto al tema del lavoro, in qualche modo anche al tema della formazione professionale, sono due contesti però in qualche modo diversi. Sul centro dell'impiego sappiamo che ci sono anche delle ipotesi di evoluzione verso agenzie di natura nazionale, vedremo e seguiremo con attenzione, sono certamente temi di grande rilievo. C'è un'esperienza comunque che appunto i centri per l'impiego ma anche gli altri servizi che si occupavano di formazione professionale, che si occupano di formazione professionale della provincia, che la città metropolitana ha ereditato, una professionalità, molte professionalità che sono importanti anche nei prossimi anni. Sicuramente sono di grande rilievo, sia appunto quelle relativi ai centri per l'impiego, di cui dicevamo e per quanto riguarda la formazione professionale sicuramente è un'eccellenza, quella della realtà della provincia, io credo che debba continuare a esserlo anche per quanto riguarda la città metropolitana. Ecco, ci sono già delle idee, delle linee di indirizzo sulla formazione professionale che questo Consiglio metropolitano pensa di seguire nella parte restante del suo mandato. Direi che la nostra parte restante non è levata, i tempi non sono moltissimi ma avremo modo di ragionarci da subito direi, abbiamo appena assunto questa responsabilità, questi impegni e a breve ci ragioneremo e troveremo immediatamente una linea condivisa.